mi hanno ripetuto che ho coraggio ed è così poco vero che mi son detta ma insomma non si può far mentire la gente in questo modo e mi son messa con l'aiuto della grazia a trovare il coraggio ho fatto come un guerriero che si sente fare i rallegramenti per il suo valore sa di essere un vile e finisce per vergognarsi dei complimenti tanto che ne vuole diventare degno